Fano è pronta ad ospitare la più sensazionale mostra su Leonardo a livello nazionale ed internazionale. Cinque leggendari disegni del Codice Atlantico domani arriveranno a Fano, per la prima volta nella storia recente esposti sulla sponda centro-adriatica d'Italia, corredati da proiezioni di grande formato funzionali ad un'esperienza ravvicinata ed immersiva nei capolavori grafici e pittorici dell'artista. E che saranno il perno centrale della mostra Leonardo e Vitruvio, oltre il cerchio ed il quadrato, che dal 12 luglio fino al 13 settembre porteranno a Fano appassionati ed esperti ed amanti del genio leonardesco da mezzo mondo. Nemmeno una grande capitale europea come Londra in passato era riuscita ad averne cinque tutti insieme, fermandosi a quattro. Questo perché avere i disegni originali del geniale inventore e artista scienziato è estremamente complesso. Ma grazie all'originalità del progetto presentato, che per la prima volta in modo tangibile mette in relazione il genio universale del rinascimento con il fondatore delle basi dell'architettura Vitruvio, che questo è stato possibile assieme alle conoscenze del centro studi vitruviani di Fano, l'amministrazione comunale e la regione Marche, che con un finanziamento di 150 mila euro, ha fatto sì che Fano fosse annoverata tra le quattro città italiane dove vengono promosse dalla MIBAC le celebrazioni per i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci 2019 e di Raffaello Sanzio nel 2020 e dove il comune di Fano ha scelto di partecipare alle celebrazioni di Leonardo. Dopo questa mostra ci sarà un lascito importante per Fano, ma che porterà delle conseguenze positive che faranno crescere culturalmente, ma anche come punto di riferimento sempre più Fano. La sala Morganti del Palazzo Malatestiano ospiterà in un ambiente appositamente creato i meravigliosi fogli dove Leonardo ha schizzato un odometro per misurare i chilometri, un orologio ad acqua, una mega balestra, un particolare del Duomo di Milano e di un lunule, ovvero uno studio sulla quadratura del cerchio, sulle armonie e sulle proporzioni. Nella sala superiore poi ci saranno esperienze multimediali sul laboratorio di Leonardo e che ci porteranno dentro il soggetto, un po' come fu per l'altra mostra, perfetto e virtuale. Qui si cerca di andare oltre per capire il rapporto molto più profondo tra Leonardo e Vitruvio che riguarda uno dei grandissimi interessi di Leonardo, cioè la meccanica.